ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati sul mio canale per questo nuovo video avrete visto che non ho messo la sigla introduttiva all'inizio perché quest'oggi voglio fare un video per parlarvi non come barde il nabbo ma come roberto come utente come come giocatore comune come persona comune avete presente quando si dice questo classico video che non avrei mai voluto registrare tutte cose le quali io sinceramente non ho mai creduto però questa è l'unica eccezione questo è veramente un video che non avrei mai voluto registrare ma allo stesso tempo è anche l'unico video che ero sicuro che prima o poi avrei registrato da quando praticamente o ho aperto il canale e mi piacerebbe dire la faccio breve ma sapete che non è nel mio stile e soprattutto questa non è una cosa che si può tanto fare fare breve è meglio farla per bene e farla prendendosi tutto il tempo il tempo necessario io vi ho sempre detto chi mi segue dall'inizio lo sa che io ho ho sempre detto che prima o poi comunque avrei dovuto avrei smesso di fare di fare quello che faccio perché comunque ho ridendo scherzando una carta d'identità che mi ricorda sempre che vado che vado verso i 40 e anche se tutti mi dicono che li porto bene e quant'altro ringrazio naturalmente e qua un riferimento particolare al buon Fabio che mi fa sempre ridere su un botto di cose e però purtroppo mio malgrado tante cose inizio inizio a sentirle inizio a sentire la mancanza di tempo inizio a sentire la fatica riduce anche da un 2019 dove ho avuto tutti i problemi che ho avuto poi nel 2020 c'è stata la pandemia nel 2021 la pandemia sta continuando anche se personalmente devo dire grazie a Dio di non essere stato toccato almeno dal covid dico che ci sarebbe mancato anche quello dopo aver avuto il tumore nel 2019 e avere anche il covid tra il 2020 e il 2021 sarebbe stato veramente veramente il top che poi in realtà potrei anche averlo fatto e non lo so può anche darsi non sto discutendo questo però il tutto è per dire che comunque fisicamente ragazzi sto iniziando veramente a fare molta fatica sto iniziando a fare molta fatica perché non ahimè non riesco più fisicamente e soprattutto un punto di testa devo dire la verità a reggere determinati ritmi ti svegli la mattina vai al lavoro torni a casa dal lavoro devi fare le daily per un gioco poi per l'altro devi registrare i video devi scrivere gli articoli per i ragazzi di AppGallery devi provare a trovare il tempo per tradurre le pagine del manga per il progetto della traduzione del manga hai una famiglia per cui dovrai anche naturalmente giustamente dedicare del tempo alla famiglia e quant'altro insomma praticamente sto facendo una vita veramente di corsa in tutto e per tutto e ne ho discusso ne ho discusso molto negli ultimi negli ultimi tempi con con mia moglie e sono giunto alla conclusione che un po' come per i Daft Punk che hanno fatto il loro video per comunicare l'epilogo lo scioglimento del loro gruppo ecco credo che sia arrivato anche il momento per me di scrivere la parola fine almeno per quello che riguarda le mie attività su youtube e sui vari social in generale non è una cosa che riguarda non è un problema relativo a Captain Tsubasa piuttosto che a Sensei ha la voglia di giocare in sé perché io comunque l'ho sempre detto io non sono uno youtuber io sostanzialmente sono un giocatore e mi vedo come tale mi sono sempre visto come tale e continuerò a giocare probabilmente fino a quando avrò 60 70 80 90 100 anni quello che quello che sarà per ogni singolo giorno che sarò su questa terra non è non è quello il problema il problema è che sapevo io di avervi preso in prestito youtube è un'altra delle cose che ho sempre ripetuto è che io non sono di una generazione nativa di youtube youtube è stato creato quando sottoscritto quelle della mia generazione erano già abbastanza grandicelle io youtube l'ho preso in prestito alle ragazzi più giovani alle cosiddette generazioni successive ad andrea a tutti gli altri ragazzi ragazzi che sono arrivati dopo ma che ma che stanno portando avanti che portano avanti le mie stesse passioni anche molto meglio di come di come faccio io e di come riuscirei comunque a fare io avrei voluto vi dico la verità tirare fino a dopo l'anniversario dico faccio l'anniversario di captain subasa giugno e luglio magari faccio anche quello che ne so di sensei a settembre forse tiro natale mi sono detto forse tiro natale per fare l'ultimo video della rennina e quant'altro però no ragazzi la verità è che davvero non ce la faccio sono arrivato sono arrivato davvero al limite sono arrivato a dover a dover scrivere la parola fine ripeto non è una cosa data da un impeto di rabbia da una delusione o o quant'altro semplicemente non riesco più a conciliare tutto quello che devo fare con la mia vita le giornate per me come per tutti gli altri durano solamente 24 ore ho notato purtroppo ultimamente che anche sul lavoro tutte queste cose stanno incidendo parecchio perché poi quando hai la testa in mezzo a mille scemate poi lavori anche anche male e questo non è assolutamente giusto di chi comunque mi permette di mantenere la mia famiglia di avere un tetto sopra la testa di riuscire a pagare le rate della casa il mutuo della casa le rate della macchina e quant'altro ci sono delle cose che nella vita comunque devono avere la primità la la priorità e quando arrivi quasi ad avere 40 anni gioco forza o questa cosa diventa un lavoro questa cosa intendo youtube tutto quello che ci sta intorno o diventa un un lavoro oppure devi comunque riconsiderare le varie priorità per avere per come si dice per non saprei neanche come vedete sono sono è difficile non farò taglia questo video perché voglio che sia quanto più spontaneo possibile è difficile anche anche spiegarmi di solito non ho molti problemi in merito lo sapete bene però qua c'è anche una sorta di carico emotivo mentre sto registrando mentre sto registrando questo video dicevo dovevo riconsiderare le mie priorità e dovevo riorganizzare meglio il mio tempo non è una questione di per come potrebbe dire vabbè ma togliti un po togliti un po di cose dalle spalle non so smetti di tradurre il manga piuttosto che interrompi la collaborazione con con app gallery tanto comunque tra parentesi non guadagno un centesimo né da una cosa né dall'altra quindi non è mai stata una cosa che ho fatto che ho fatto per soldi quindi questo su questo ci tengo a essere ben 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 chiaro così come eventualmente chiudendo youtube non è che rinuncerei a chissà a chissà quali entrate è tutt'altro e no non è non è quello il punto del discorso veramente ragazzi punto del discorso che mi devo togliere tante tante catene di dosso ripeto purtroppo sono arrivato al punto che fisicamente e a livello anche emotivo e psicologico non riesco più a reggere a reggere tutto 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 quanto tutto questo carico qualcuno avrà già anche notato che tra da una dec 10 15 giorni circa ho anche smesso di seguire la pagina facebook di di captain subasa dream team e proprio perché ho già iniziato come si dice a prendere un attimino le a provare a prendere un attimino le distanze da da tutto questo mondo ho già comunicato anche questa mattina la mia decisione ai ragazzi di api gallery per quello che riguarda appunto l'interruzione della mia della mia collaborazione con con loro e niente ragazzi ripeto questo comunque era il video che non avrei mai voluto fare ma che sapevo che prima o poi dovevo 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 necessariamente fare un'altra delle cose che ho detto che così come sono venuto me ne andrò in punta di piedi tranquillamente da un giorno all'altro sono apparso e da un giorno all'altro mi vedrete scomparire sarebbe molto più conveniente per me tenere aperto il canale youtube anche solo possono come per dire le visualizzazioni comunque anche per la gente che guarda i video vecchi continuerai a farle quindi magari qualcosa continuerai a monetizzare anche su dei video vecchi però sinceramente non mi sembra una cosa non mi sembra una cosa giusta poi ripeto tanto per quello che ci guadagno quindi quando poi deciderò effettivamente di di chiudere chiuderò definitivamente anche il canale nel senso che proprio lo eliminerò così come eliminerò eventuali account facebook telegram instagram e tutto quanto anche perché poi mi verrebbe il magone a vederli capite poi dov'è il problema poi mi verrebbe il magone mi verrebbe la nostalgia tutte queste cose qua e rischierei di ricaderci ma so che sarebbe comunque una scelta sbagliata a prescindere non per una questione di divertimento e e quant'altro ma perché ripeto in questo momento secondo me sono arrivato a un punto della mia vita dove la testa deve essere dedicata al cento per cento alle cose che sono veramente importanti salute famiglia e lavoro per quello che riguarda la salute lo vedete ho già dei segni che mi porterò avanti avanti tutta la vita che ogni giorno vedo che mi ricordano guarda che devi stare attento alla salute e e guarda che devi stare attento al allo stile di vita che che tieni e tutto quanto e quindi niente faccio questo video in anticipo non nel senso non è che chiuderò il il canale domani però comunque alla fine di maggio ripeto non non credo neanche di fare l'anniversario di giugno di di captain subasa alla fine di maggio saremo veramente ai saluti all'epilogo all'epilogo conclusivo e quindi ci tenevo a fare questo video anzitempo per ringraziarvi veramente tutti perché io iniziando facendo video a caso completamente per divertimento su destini perfettamente consapevole che non sarei stato filato di striscio di nessuno anche in virtù delle mie capacità disastrose su quel gioco ho iniziato a portare captain captain subasa dream team così giusto giusto perché il gioco mi piaceva perché vedevo che non lo portava praticamente nessuno io adesso non so se il primo ad aver iniziato su youtube con questo gioco sono stato io fabio lui dice che ho iniziato prima io io sono convinto che ha iniziato che ha iniziato prima lui sinceramente questa cosa ammetto dico la verità non non mi ricordo anche perché ormai sono sono passati anni ed è abbastanza indifferente a fabio va un ringraziamento enorme in tal senso perché comunque specialmente quando eravamo solo noi due all'inizio e lui mi divertiva un casino mi ha dato un sacco di spunti credo che ci siamo un pochettino aiutati a vicenda perché poi comunque la gente un po' parlava di me un po' parlava un po' parlava di lui in realtà ho sempre avuto grandissima stima e rispetto non solo per lui ma per tutti i ragazzi che che portano captain subasa dream team in italia colgo l'occasione per togliermi a questo punto anche qualche sassolino e per fare una sorta di video verità tanta gente ha provato tantissime volte a istigarmi sul fatto che ne so su su andrea ma non ti dà fastidio che andrea abbia aperto il canale proprio nel momento in cui tu eri ricoverato con tutti i tuoi problemi no ragazzi passatemi il termine assolutamente stronzate e ve lo dico proprio terra terra io sono stato felicissimo sono tuttora felice che andrea abbia aperto il suo canale lo ero ancora di più all'epoca proprio perché non sapendo io se avrei potuto o meno continuare se avessi se avrei se avrei se avrei se avessi potuto continuare o meno a fare quello che che facevo e quindi vedendo che c'era un nuovo ragazzo dei nuovi ragazzi che nel frattempo poi avevano aperto il canale che stavano portando avanti quello che appunto era la mia passione sapendo proprio che io prima o poi presto tardi sarei arrivato a questo momento mi faceva solo che piacere vedere appunto ragazzi che avevano che portavano avanti la mia passione con 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 lo stesso impegno con 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 lo stesso entusiasmo e io veramente non posso che augurare il meglio ad ognuno di loro a fabio d'andrea ibocco a cataldo lo strano nerd a jack anche se adesso è un po che non vedo che che pubblica più niente tutti gli altri ragazzi sicuramente ne sto dimenticando un un sacco ne sto dimenticando un sacco io sono iscritto quasi tutti gli ragazzi che portano captain subasa su youtube quindi chiedo scusa se in questo momento ne sto dimenticando ne sto dimenticando qualcuno il vura naturalmente che se il vura adesso non porta più non porta più captain captain subasa e e quindi veramente questa cosa questa cosa delle presunte rivalità che a me avrebbero dato fastidio quant'altro lo dico qua chiaramente lo sottoscrivo assolutamente assolutamente stronzate io sono sempre andato d'accordo con tutti i ragazzi che portavano che hanno iniziato a portare questo gioco dopo di me così come sono sempre andato d'accordo con con lo zodiac team con i ragazzi dello zodiac per quello che riguarda senza i awakening che siamo compagni di legione io sono stato il primo a fargli pubblicità sul mio canale youtube quando loro avevano tipo 10 15 iscritti che avevano appena iniziato se voi andate a vedere nella settimana o la settimana successiva in cui loro avevano appena aperto il loro canale io sono stato il primo a fare un video dicendo a tutti quanti di seguirli anche se loro non me lo avevano chiesto perché non me l'avevano non me l'avevano chiesto è una cosa che ho fatto io che ho fatto io spontaneamente e quindi sono sono veramente contento che poi loro abbiano avuto tutto il successo che hanno avuto che stanno avendo che se lo meritano perché si fanno un mazzo quadrato tra le altre cose e per me invece questi sono i saluti anzitempo ripeto questo non è l'ultimo video che farò ci mancherebbe nel proseguo del mese arriverò fino comunque alla fine del mese di maggio a fare a fare video proverò almeno a fare video non sarà più facile come prima perché dopo che ho fatto questo video vi dico la verità sarà abbastanza difficile sarà abbastanza difficile continuare sapendo che comunque ogni video che sto facendo è un video che mi avvicina di più alla conclusione però comunque fino alla fine del mese di maggio proverò proverò ad arrivare dovrò organizzare anche una call con i ragazzi del programma di traduzione del manga per dire che ahimè purtroppo devo dovrò quittare anche lì io bene o male però i miei capitoli li ho fatti tutti e vi devo dirla la verità i capitoli che mi ero prefissato di fare io come sottoscritto li avevo fatti tutti siamo molto indietro ragazzi ahimè vi dico la verità siamo molto indietro perché anche quel progetto porta via molto più tempo di quello che avevamo pensato e quindi non è detto che poi alla fine si faccia però spero in qualche modo di riuscire almeno a concludere i capitoli di Golden 23 e di riuscire a portarvi quelli poi magari se qualcuno vorrà più avanti prendere in mano la situazione per quello che riguarda il Rising Sun si faccia avanti ai miei contatti che gli passerò tutto quanto anche se del Rising Sun al momento non è che abbiamo materiale a disposizione altri ringraziamenti doverosi al dottore Alessio Petrone naturalmente perché mi è stato vicinissimo nel mio periodo di malattia nel 2019 è stato una colonna portante per me è la colonna portante in generale della community di Captain Tsubasa per almeno un paio d'anni con il suo canale con i suoi link adesso vi direte ma il canale è aperto da solo un anno sì vabbè ma io lo conoscevo da prima quindi diciamo per almeno per almeno un paio d'annetti e niente veramente ragazzi grazie di cuore a tutti voi perché io non avrei mai immaginato di tenere il canale aperto così tanto non avrei mai immaginato di arrivare neanche forse a 100 iscritti ma vabbè a 100 forse ci pensavo pensavo di arrivarci perché a 100 ci sarei arrivato magari anche solo con gli amici così e quant'altro però già per dire 500 era 5 volte tanto il mio limite massimo figuriamoci 5000 e so che è una goccia in mezzo all'oceano c'è gente che ha milioni 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni di iscritti non è quello il punto del discorso non ho mai fatto una gara con i numeri non mi metto a farla con chi ne ha più di me non mi sarei mai messo a farla neanche con chi ne ha di meno e per me ogni piccolo risultato che ho raggiunto ripeto nel mio piccolo è comunque un grandissimo risultato anche perché comunque per quello che riguarda Captain Tsubasa e Sensei a bene o male in Italia ci giocheranno 5000 persone a uno e 5000 all'altro quindi il fatto di avere comunque nel complesso 5000 iscritti direi che è una buona percentuale per il target che porto ringrazio veramente di cuore i ragazzi di Epic Gallery non dico di Huawei in generale perché sarebbe troppo alta come cosa i ragazzi di Epic Gallery in generale perché comunque mi hanno notato ci siamo accordati appunto per tirar su quei due progettini fan made completamente fan made lo sottolineo nulla di commerciale di economico non è un rapporto collaborativo di tipo subordinato al lavoro roba del genere no è semplicemente una sorta di scambio di favori fra dei ragazzi che gestiscono un'app e un content creator qualunque senza che ci sia sotto nessun tipo di 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 compenso economico proprio a livello monetario intendo e quindi li ringrazio di cuore perché comunque hanno avuto hanno avuto voglia di mettersi in gioco anche con me nonostante appunto i miei numeri siano nel complesso pressoché pressoché irrisori e a me la cosa ha fatto veramente tanto piacere e mi sono impegnato tantissimo in questa cosa perché per me comunque è stato un grandissimo onore è un grandissimo onore poter affiancare il mio nome ad un marchio ad un marchio così importante ed è una cosa che mai e poi mai e poi mai nella vita avrei immaginato quando avevo aperto quando ho aperto appunto questo questo canale 21 minuti di rottura di scatole sono in questo momento sto guardando un attimino il cronometro abbiate pazienza ma questo è un video che mi verrà un magone tremendo quando lo chiuderò e quindi vorrei farlo durare il più possibile non dico che sarà il video che durerà un'ora non ho mai fatto un video che dura più di un'ora a parte le live naturalmente avrei avrei voluto anche farlo vi dico la verità però no sinceramente non è non è il caso quindi niente ragazzi il mio lascito per per tutte voi generazioni di giocatori più giovani voglio darvi solo un consiglio e ve lo do spiegando o meglio rispiegando perché io quando ho aperto il mio canale ho scelto come nickname barde il nabbo nella fattispecie la questione il nabbo perché quando io ho iniziato a interessarmi al ai canali di gaming su youtube ho sempre visto tantissima tantissima gente tantissimi ragazzi a farsi la cosiddetta guerra la battaglia del 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 chi ce l'ha più lungo e in termini di rateo su destiny in termini di kill sui vari call of duty eccetera eccetera in termini di trofei piuttosto che di archivament su playstation e xbox in termini di di ore di gioco in termini di di che cavolo non ne so di ranking su su fifa e di quant'altro tutta una serie di ragazzi che non giocavano per divertirsi ma giocavano sostanzialmente per dimostrare di essere bravi di essere i migliori che non è una cosa sbagliata assolutamente ma con l'atteggiamento di chi era convinto che dimostrando di essere migliore su un gioco dimostrava automaticamente di essere migliore anche anche nella vita e o per carità ci sono anche i casi in cui effettivamente uno è un grande sul gioco ed è un grande anche anche nella vita è assolutamente non sto non sto dicendo di no però sembra che tanti comincino la loro avventura su su youtube piuttosto che su twitch proprio con quell'intento con quell'intento specifico si può fare ripeto non c'è nulla di sbagliato in tutto questo ma ricordatevi che se i videogiochi hanno avuto successo che hanno avuto partendo praticamente da zero da poco anche la politica italiana li ha riconosciuti a tutti gli effetti come un'arte se sono arrivati a questo è perché i videogiochi hanno sempre avuto uno scopo uno quello di divertire e quindi il consiglio che vi do io innanzitutto è ragazzi giocate per divertirvi non fatevi il sangue amaro se vedete che non riuscite a essere tra i top nel mondo se non riuscite ad arrivare in superstar su captain subasa o se vi bloccate al rango immortal su senseia per dire non fatevi il sangue amaro per quello divertitevi prendete i giochi per quello che sono ovvero dei giochi so che è un discorso banalissimo so che sono frasi che sembrano tirate fuori dai biscotti della fortuna o dai baci perugina me ne rendo perfettamente conto ma credetemi in quasi 40 anni di vita e direi circa più o meno 35 anni da videogiocatore contando quella che è stata la mia prima console che era il vecchio nintendo 8 bit il nes alla fine quello che vi porterete dentro sarà sempre il divertimento io da giocatore mi porterò sempre dentro i miei primi gol in captain subasa mi porterò sempre dentro le mie prime pullate i miei primi saint s su senseia mi porterò sempre dentro il mio primo faro su destiny la mia prima vittoria su call of duty mi porterò sempre dentro le storie di final fantasy gli occhi di tifa ci siamo capiti in quest'ultimo punto chi ha voluto intendere intenda mi porterò sempre dentro la crescita di kratos come da umano a dio mi porterò sempre dentro tutte queste cose qua e a quali che vi dicono che i videogiochi sono diseducativi che fanno male alle persone ai ragazzi che tendono a chiuderli a non farli uscire a non crearsi una vita vera occhio perché non hanno tutti i torti purtroppo come tutte le cose il troppo stroppa e quindi bisogna saperci dare un limite giusto ma ragazzi in realtà io vi dico la verità ho a livello umano su come comportarmi come 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 persona anche nella vita anche nella vita di tutti i giorni io ho imparato tantissimo dai giochi magari non da tutti ma da alcuni come ho imparato tantissimo dai fumetti dai manga nel nel mio caso e vi garantisco che se presi nella giusta ottica e nella giusta maniera sono cose che possono solo che possono solo che aiutarvi in in tanti ambiti non dico in tutti direi una scemata ma in tanti ambiti sicuramente sì non saranno mai più importanti di fare una sana attività fisica non saranno mai più importanti della scuola però possono essere secondo me un un bellissimo complemento d'arredo ecco mettiamola mettiamola così e con questo e con questo messaggio che vorrei chiudere il mio video ripeto mi rendo conto che sono frasi banali scontate da libro cuore e quant'altro però volevo volevo veramente lasciarvi volevo veramente lasciarvi un messaggio volevo che fosse un messaggio importante e volevo salutarvi nella maniera migliore che secondo me che secondo me è questa non quella del 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 youtuber del content creator tutte parole che per me non hanno mai avuto nessun significato vi dico la verità ma semplicemente come giocatore da da videogiocatore e bom dai basta ragazzi ripeto questo non sarà l'ultimo video che faccio farò altri farò altri video almeno fino alla fine del mese però terrò questo video come copertina del del mio video un giorno ahimè ve lo dico non troppo lontano cercherete su youtube Bardelnab e non lo troverete più come ho detto prima quando poi chiuderò chiuderò tutto compreso il canale è una scelta egoistica come come vi ho detto prima lo faccio sostanzialmente per me perché poi mi verrebbe il rimorso il rimpensamento la nostalgia e sarebbero tutte cose mi farebbe male a me in primis andare a rivedere i miei i miei video quindi non quando non quando non mi troverete non mi troverete più sappiate comunque che in cuor mio vi ho vi ringrazio veramente tantissimo per tutto il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo avete avuto un ruolo pesantissimo il vostro supporto è stato veramente un macigno durante la mia malattia mi avete dato una mano che neanche vi rendete conto non sapete quanto è stato utile per me in un in un letto d'ospedale piuttosto che su una poltrona con con i liquidi delle chemio che entravano nel braccio leggere tanti messaggi di gente che ti faceva che ti faceva forza e che ti era vicino mi siete stati veramente ad aiuto in una maniera che voi neanche vi rendete vi rendete conto una una famiglia virtuale solo magari solo virtuale qualcuno dirà non reale certo ma ma non per questo prima di significato come molti vogliono vogliono credere o vogliono o vogliono far passare quindi veramente ancora ragazzi grazie grazie di cuore a tutti avrei voluto portarvi dei contenuti migliori spesso guardo indietro e dico mi rendo conto che tante cose avrei potuto farle molto 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 meglio magari avendo iniziato prima con un pochettino più che ne so di di forza con qualche conoscenza in più visto che io comunque sono una capra ignorante per quello che riguarda tutte tutte queste cose di video editing montaggio copertine con photoshop e quant'altro io sono negato in tutti i sensi le copertine le faccio ancora con paint e per montare i miei video l'unica funzione che conosco è quella del tagli e copia per dire quindi veramente da questo punto di vista mi dispiace perché avrei voluto veramente portarvi portarvi qualcosa di più e non sono stato in grado di farlo proprio per mancanza di 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 conoscenza ma so che i ragazzi che vengono dopo di me fortunatamente non hanno non hanno non hanno di questi problemi quindi compenseranno sicuramente alla grande va bene mercoledì sicuramente video di senseia poi con captain su buzz si riprende venerdì in avvicinamento all'anniversario dai per oggi era tutto ragazzi ci vediamo con i prossimi video almeno prima almeno fino alla fine dei mese del mese grazie ancora a tutti pace belli alla prossima